Benvenuti in una nuova puntata di New Smartphone, la nostra rubrica che ogni mese vi anticipa le novità che arriveranno nei successivi 30 giorni. Siamo a luglio e luglio faremo con pieghevoli di Samsung. Infatti arriveranno i Flip, i Fold, tanti altri wearable. Questa puntata sarà dedicata quasi interamente a Samsung con una sorpresa finale. Segnatevi la data del 10 luglio per l'evento Unpacked di Samsung a Parigi. Dovranno essere presentati veramente tantissimi prodotti. Proviamo un po' ad elencarli. Galaxy Fold 6, Galaxy Flip 6, Galaxy Watch 7, Galaxy Watch 7 Ultra, Galaxy Buds Pro 3, Galaxy Buds 3, Galaxy Ring. E forse me ne sto ancora dimenticando qualcuno, ma spero di no. Cominciamo dal Galaxy Fold 6, che è questo. Come vedete non ci sono rivoluzioni rispetto al passato per quanto riguarda il design. E le colorazioni dovrebbero essere 3 grigio, blu e una sorta di rosa. All'interno Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, almeno 12 GB di RAM e 256 di memoria interna. Schermo AMOLED interno da 7,6 pollici ed esterno da 6,3 pollici. Entrambi a 120 Hz. Due fotocamere da 50 megapixel, standard e ultra wide, più teleobiettivo con ingranimento ottico 3x. Batteria da 4400 mAh. E già, la verità è che dal punto di vista estetico e hardware, le novità sembrano praticamente assenti, a parte un ovvio aggiornamento del processore. Ma, come sempre, per i pieghevoli bisogna capire tante cose. Per esempio, qual è il touch and feel in mano, come è stata gestita la piega e quindi di conseguenza anche la cerniera. Se dà sempre quel senso un po' di plastica alla pellicola interna oppure no. E se Samsung è rimasta ancora un po' un riferimento per quella che è la qualità costruttiva dei device pieghevoli. Altro punto di domanda che porta ovviamente alla curiosità riguarda il software. Perché abbiamo visto con i Galaxy S all'inizio del 2024 l'arrivo della Galaxy AI, quindi l'intelligenza artificiale. Vediamo se Samsung l'ha in qualche maniera adattata anche ai suoi pieghevoli. In particolare all'utilizzo della S-Pen. Si parla di alcune funzioni che dovrebbero arrivare. Il claim dell'evento parla proprio di intelligenza artificiale, quindi ci aspettiamo sicuramente qualcosa di nuovo. Il Flip 6 invece migliora dallo scorso anno in modo importante. Anche se a guardarlo, come vedete dalle immagini, sembra praticamente uguale al Flip 5. Quindi ripropone lo stesso schermo esterno, molto grande, in realtà con una forma irregolare. E per lui addirittura quattro colorazioni, grigio, verde, azzurro e giallo. Per lui lo schermo è da 6,7 pollici interno ed esterno da 3,4 pollici, entrambi a 120 Hz. Un upgrade significativo sulle fotocamere che dovrebbero essere da 50 e 50 megapixel ultrawide standard. Anche per lui Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy e la batteria che sale da 3700 mAh dell'anno scorso a 4000 mAh. I prezzi li conosciamo abbastanza, c'è stato un leak che state vedendo con i prezzi australiani, in dollaro australiano, che al cambio portano a dei prezzi abbastanza alti. Più o meno circa un centinaio di euro in più rispetto all'anno scorso, perché per i prezzi italiani un altro leak suggerisce di aggiungere circa un centinaio di euro. Insomma, nulla di stravagante, più o meno qualcosina in più rispetto all'anno scorso, ma più o meno i prezzi dovrebbero rimanere quelli. Passiamo invece ai wearable e cominciamo dal Watch 7 Ultra. Me ne sono già innamorato, sono usciti dei render, in realtà delle immagini stampa. Lo vedete in due colorazioni, una con la cassa nera e cinturino arancione, l'altra con cassa argento, sembra, con cinturino bianco. Sicuramente la versione nera è quella che mi piace di più. Un design che ricorda un po' l'Apple Watch Ultra, quadrato con però all'interno il display che rimane rotondo. Insomma, un mix interessante di design, sicuramente divisivo, o piace o non piace, io lo trovo molto figo. Per quanto riguarda le specifiche, la parte più interessante è la batteria da 590 mAh, dovrebbe essere anche un dispositivo capace di arrivare fino a 10 atmosfere di profondità, quindi è pronto anche per le immersioni e dotato anche di certificazione Military Standard 810H, quindi parecchio resistente. Grosso, la cassa dovrebbe essere da 47 mm e un display che arriva addirittura a 3000 nit di picco di luminosità, proprio come l'Apple Watch Ultra 2. Watch 7 invece è la versione più classica, con un design molto molto simile al Watch 6, non la versione classic perché è senza ghiera. Per lui due varianti, 40 e 44 mm, un orologio un pochino più classico che sicuramente costerà meno. Per lui non dovrebbe esserci la resistenza alla pressione di 10 atmosfere, ma il classico 50 metri di profondità. Batterie da 300 e 425 mAh, proprio come i Watch 6 nella versione classic però, quindi diciamo che c'è stato un piccolo miglioramento dei Watch 6 base verso i Watch 6 classiche che erano leggermente più carrozzati rispetto alle versioni base. Prezzi 319-349 per il Watch 7, 699 per il Watch 7 Ultra. Un prezzo ovviamente ultra, un dispositivo esclusivo, però bisognerà vedere anche quali saranno le caratteristiche tecniche nel dettaglio. Ci potrebbe anche stare, insomma alla fine non è lontano dal prezzo del primo Apple Watch Ultra che era stato presentato. Cuffiette Galaxy Buds 3 e Buds 3 Pro. Di queste non ci sono in realtà delle specifiche, qualcosa di tangibile che posso dirvi, però posso farvi vedere le immagini. hanno dei richiami arancioni e blu, entrambe insomma dovrebbero averli, con una nuova tendenza stilistica che sta inaugurando Samsung. Le Buds 3 senza gommini, quindi non in-ear, mentre le Pro dovrebbero avere i gommini, quindi cuffiette a tutti gli effetti in-ear. L'ultimo grande protagonista dell'evento Unpact dovrebbe essere il Galaxy Ring. Io in realtà l'ho già visto al Mobile World Congress, abbiamo fatto anche uno short, ve l'ho fatto vedere nelle immagini, era in realtà sottoteca, quindi non ho potuto provarlo, ma non è che insomma di un anello ci sia tantissimo da dire. Esteticamente sembra abbastanza classico, sobrio e nella parte interna, a contatto con la pelle del vostro dito, ci sono tutti i sensori. Un dispositivo orientato come tutti gli smart ring al monitoraggio della salute, con sensore cardio, SPO2, ovviamente poi accelerometro, giroscopio, tutti questi sensori che vi permettono di tracciare il movimento e tenere traccia del vostro cuore. Insomma, una cosa che va un po' ad essere un doppione rispetto ad un orologio smart, però per alcuni aspetti anche una espansione di quello che fa un orologio smart, perché ovviamente essendo a contatto sempre con il vostro dito può darvi dei feedback e dei dati un pochino diversi. Il tutto dovrebbe essere poi racchiuso all'interno di Samsung Health. Su questo smart ring dobbiamo capire per esempio come si farà a scegliere la misura. È uscito un leak che ci parla di un kit per determinare la misura che vi viene spedito in anticipo rispetto all'acquisto dell'anello vero e proprio, dopodiché dovete fare la scelta e probabilmente poi vi rimborsano i soldi della spedizione e del kit stesso se lo andate ad acquistare. Non lo so, staremo a vedere. Ci saranno sicuramente diverse colorazioni, diverse misure e il prezzo dovrebbe stare attorno ai 300€. Una cosa che è già trapelata è una custodia che funge anche da base di ricarica, un po' come delle cuffiette True Wireless. Se voi lo mettete lì si ricarica e la batteria, stando agli ultimi rumor, dovrebbe durare circa 7-10 giorni, quindi insomma una settimana. La sorpresa di cui vi ho parlato è un nuovo smartphone, unito anche però a un nuovo orologio e a delle nuove cuffiette, del sub-brand di Nothing che si chiama CMF. È un brand che mette sul mercato dei dispositivi di fascia più bassa rispetto ai Nothing, quindi più accessibili e dovrebbe essere arrivato il momento per il primo smartphone marchiato CMF. Quindi uno smartphone economico, si parla di circa 179€, ma particolare e interessante, perché grazie ai teaser che ha rilasciato CMF si capisce che la cover posteriore di questo smartphone potrà essere sostituita, svitando una piccola vite con altre cover e saranno verosimilmente tantissime. Rimane da capire se una volta smontata la cover magari si può rimuovere anche la batteria, personalmente non credo, però sicuramente è bello il fatto che ci sia la possibilità di personalizzare in maniera così importante uno smartphone. Non era da tanto tempo che non si vedeva una cosa del genere. Per quanto riguarda le specifiche tecniche, il display da 6,7 pollici, Full HD+, 120Hz, il processore un Mediatek Dimensity 7300, poi 50 megapixel per la posteriore più un sensore di profondità, 16 megapixel la frontale, lettore di impronte digitali nel display, 6, 128 oppure 8, 128 GB, espansione tramite microSD della memoria, 5000 mAh di batteria e ricarica 33 Watt. Se avete fatto un po' attenzione sono grossomodo le specifiche del Nothing Phone 2A, ma un pochino più basse soprattutto sul comparto fotografico. Questo mi porta a pensare ad un prezzo sotto i 200€, magari con qualche sconto iniziale. Carino, carino. Poi sempre loro di CMF dovrebbero presentare anche il Watch 2 Pro o Watch Pro 2, anche questo siamo già la seconda generazione, il primo insomma è passato un po' in sordina, e anche la seconda generazione delle cuffiette True Wireless. Entrambi questi orologi interessanti, per esempio le cuffiette, dovrebbero avere un piccolo bottone che vi permette di girare o di essere premuto oppure di essere ruotato per andare a regolare l'equalizzazione. Mentre l'orologio molto classico con le cornici in alluminio e display apparentemente con bordi abbastanza sottili. 8 luglio è la data per i CMF, proprio due giorni prima del Galaxy Unpacked. Arriveranno anche le Olimpiadi, di cui tra l'altro Samsung è sponsor. Insomma, un luglio abbastanza ricco per essere luglio. E tra l'altro, tra l'altro, poi anche ad agosto ci sarà qualcosa di interessante, perché sembra proprio che i Google Pixel, e saranno tanti, verranno presentati proprio intorno alla metà di agosto. Quindi nessuna sosta questa estate. E poi, ve lo anticipo già, sarà un IFA particolarmente ricco. Ci stanno già arrivando diversi inviti, ci sono tante cose che si stanno muovendo. Sembra che il mercato si stia rimettendo in moto in maniera molto molto importante. Per questo video direi che invece è tutto. Se vi è piaciuto, come sempre, lasciate un bel like ed iscrivetevi al nostro canale. Io sono Matteo, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!